FIENISTA NAZIONALE ARIASERREMO! E' stata una serata emozionante e sicuramente un bel modo di concludere questo percorso che mi ha permesso di fare l'area Sanremo. E con questa classificazione cosa hai ottenuto? Con il secondo posto ottengo la pubblicizzazione, la produzione di un inedito e inoltre la possibilità di esibirsi a Sanremo durante il periodo del festival in una location. Comunque sei anche finalista per le selezioni vere e proprie di Sanremo per cantare poi sul palco dell'Ariston, quindi il sogno va prendendo forma. Sì, il sogno continua e partecipo con il mio inedito che è stato scritto e stato anche musicato da me, quindi per me già questo è un onore e sicuramente una vittoria. Canterò al Teatro dell'Opera del Casino di Sanremo, quindi sarà un'emozione immensa, anche perché canterò con l'orchestra sinfonica, quindi sarà tutto live. Poi sono onorata perché da 877 ragazzi che si sono esibiti e hanno gareggiato ne hanno preso soltanto 225, quindi c'è stata sicuramente una classifica più ristretta. Hai detto di essere emozionata, ma cosa si prova realmente? Quello che si prova non è facile da tradurre con le parole, le parole sono sempre troppo riduttive, sicuramente ci sono tantissimi brividi lungo il corpo e tantissime lacrime e soddisfazioni. Tu hai studiato musica o sei autodidatta? Come sei arrivata a questi obiettivi? No, io ho studiato, ho studiato da sei anni presso l'Accademia dello Spettacolo Palladium con la mia insegnante Liaminio a cui devo tutto se oggi sono qua. Quindi gli sforzi insomma stanno fruttando? Sì assolutamente, gli sforzi non solo miei ma anche della mia famiglia, del mio ragazzo, di tutti i miei amici, di tutto il mio paese. Adesso quindi speriamo bene di superare anche la finale? Sì, incrociamo le dita! Grazie a tutti!